eh signori siamo arrivati al momento clou cioè non c'è il momento migliore secondo me la vestizione di un artista si si puoi mettere qualsiasi giacca qualsiasi puoi mettere anche lo smoking ma nulla è uno smoking rispetto a questa operazione attenzione siamo all'apoteosi della vestibilità sta sfilando l'emozione non ha voce ecco solo una pensate costa 300 miliardi ricordi l'altra quanto cazzo costa con questi ai piedi signori già il cachet è giustificato ve lo assicuro e viene giustificata anche dal fatto che aumenta il costo dello spettacolo quindi dovrei fare da testimoniali io eh la cerco da testimoniali ma c'è l'altra noi li chiamiamo da piccinini perché in macchina devono viaggiare comodi guarda sono due questa la protesi questa no certo le scarpe le scarpe le scarpe che costano 17 euro la carda uno sì uno no per cognuno facciamo il funerale ti sei fatta male bambina lì